Nella bilaterale che ho fatto prima di cominciare col primo ministro inglese Cameron, si è toccato molti di questi punti perché saranno uno dei punti essenziali del G8 che si svolgerà in Nord Irlanda il 17-18 giugno, nel senso che la presidenza britannica vuole fare di questo tema, della trasparenza e di regole globali, uno dei punti, uno degli elementi essenziali. Vedremo ovviamente quali saranno le proposte, cercheremo di metterle in connessione con ciò che oggi è stato discusso e deciso. Mi sembra anche questo un punto sicuramente importante.